Secondo voi è giusto che partoriscono qua sotto la spazzatura? No. È giusto? Che i gattini si trovano sempre morti qua davanti? Qua io non li ho visto. No, sempre. Sempre. Ora il gatto stava giocando in mezzo alla strada la macchina per un miracolo. E allora cosa vuole? Io vado, vado. Non si preoccupi. Devo ringraziare che siamo in questa città di merda e che non funziona un servizio veterinario. Perché gestire una colonia felina non significa far nascere tutti questi gatti e destinarli a randagismo. Questi gatti vengono a mezzare qui, vengono a tutti i gatti. Signora, questi gatti dormono là dentro. Non è vero. Sì, li abbiamo visti da dove escono e dove entrano. Eccoli qua. No, non sono da tutte le parti, signora. E comunque noi le stiamo dicendo che noi siamo un'associazione, che noi potremmo sterilizzarli, questi gatti. A spese nostre. Sì, a spese nostre. A spese nostre. E poi continuate a darli da mangiare. E poi continuate a dare da mangiare senza che ne nascono altri piccoli. Non siamo interessi. Ah no, è bene farli nascere.